... Maurizio Rogai, dirigente dell'Ansio, al Mediolanum Baby Cup, sesta edizione, in questa giornata di presentazione. Io ti chiedo che cosa ti aspetti da questo torneo, quali sono i valori fondamentali che la vostra società esprime e se questi valori sono gli stessi che poi esprime anche il Mediolanum. Come no, abbiamo deciso di intraprendere un'altra volta questa strada perché è basato sul fair play, quindi sull'educazione dei bambini, dei genitori, di tutti quanti. Abbiamo visto che è stato rivisitato, è stato fatto in fasi migliori, ci sarà una partita al mese, ci sono quattro gironi con due squadre che passeranno, quindi le partite non saranno lunghe come l'altro anno ma sarà una cosa un po' più ridotta con altri fini e noi aderiamo molto a questa iniziativa.